Pacchino, maltrattamenti e danneggiamento, misura di allontanamento dalla casa familiare per una coppia. Eseguita una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e a luoghi frequentati dalla stessa nei confronti di un uomo di 38 anni e della sua convivente di 39 anni responsabile dei maltrattamenti e danneggiamento. Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Pacchino hanno eseguito la misura ai due destinatari che hanno perpetrato delle violenze e condotto il persecutore nei confronti delle loro vittime, rispettivamente madre del 38enne e compagno della stessa. Inoltre hanno danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione delle vittime che si trova nello stesso edificio in cui vivono anche i destinatari della misura cautelare.